Musica E' stata calcolata in due anni la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco a Fano, risolti i problemi tecnici e finanziari, inizierà ad essere costruita dai primi mesi del 2025. Una nuova antenna a Mettauiglia di Fano preoccupa un gruppo di abitanti, chiesto un incontro al Comune, intanto in Consiglio Comunale è stata presentata un'interrogazione. I residenti di Mettauiglia rinunciano a una delle tre rotatorie promesse dal Sindaco per regalarla tombaccia. Le nuove infrastrutture primeggiano nell'elenco delle opere compensative all'Adriatic Link. Affidamenti e sponsorizzazioni dubbie a Pesaro. Il centrodestra chiede chiarezza e invita l'ex sindaco Matteo Ricci a fare luce sulle spese. A Pesaro è quasi tutto pronto per la Fiera di San Nicola, che si svolgerà dal 10 al 12 settembre. Tre giorni di colori, sapori e spettacoli, presenti circa 500 espositori. Al via la seconda edizione di Valle Foglia Challenge, l'evento dedicato allo sport, che si svolgerà nelle giornate del 7 e 8 settembre. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli. Il Comune di Fano e il Ministero dell'Interno hanno approvato un nuovo protocollo per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco, un'opera che si era arenata per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Ora, sembra che non appena definiti gli ultimi dettagli, a gennaio inizieranno i lavori. E allora iniziamo da qui con Massimo Foghetti. Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, una struttura strettamente necessaria, che però langue da diverso tempo per tutti i problemi che sono sorti con l'aumento dei prezzi post-Covid. Però in questo momento siamo a un punto buono. Assessore Ilari, che cosa è accaduto perché ci sia un'accelerata a questo progetto? Allora, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione che verrà firmato fra il Comune di Fano e il Ministero dell'Interno che chiude un po' tutta la partita amministrativa che era rimasta aperta durante questi anni come indicato correttamente dovuto all'aumento dei prezzi. Quindi non era stato possibile proseguire la realizzazione dell'opera visto che il Covid purtroppo ha innalzato i prezzi di oltre il 40%. Quindi c'era stato questo blocco ai lavori che ha imputato sia una parte tecnica che una parte amministrativa. Grazie al lavoro dell'amministrazione comunale di concerto con i Vigili del Fuoco sia dal punto di vista ministeriale ma anche locale che quindi vanno ringraziati, siamo riusciti a chiudere questo pacchetto, siglare, deliberare l'accordo fra il Comune e il Ministero e quindi noi entro l'anno avremo finalmente la gara redatta e il nome dell'azienda che realizza i lavori. Nei primissimi mesi del prossimo anno ci possiamo sbilanciare dando anche febbraio come limite che ci siamo dati potremmo finalmente consegnare i lavori e iniziare finalmente la realizzazione di questa caserma che davvero da troppi anni che Fano sta attendendo. Nel frattempo avete fatto un sopralluogo all'attuale caserma e vi siete resi conto delle necessità delle squadre di soccorso? Sì, assolutamente. L'attuale struttura non è idonea alla caserma della terza città delle Marche. I nostri Vigili stanno facendo veramente un lavoro incredibile in condizioni che non sono assolutamente idonee. Per questo va accelerato il più possibile l'iter di realizzazione della nuova caserma e così stiamo facendo. Residenti di Metauriglia Fano preoccupati per la probabile installazione di una nuova antenna della telefonia mobile nei pressi di Via Iozzino i cittadini hanno chiesto un incontro al Comune per chiedere chiarimenti. Il servizio è di Filippo Pucci. Vogliamo delle lucidazioni perché siamo preoccupati in primis per la nostra salute, per la svalutazione degli immobili per una serie di cose che appunto hanno fatto venire qui tutta questa gente. Dovrebbe nascere proprio qui, in questo piccolo appezzamento di terreno privato non arato, un nuovo traliccio della telefonia mobile. Sono preoccupati i residenti di Metauriglia di Fano che appena saputo della possibile installazione dell'impianto in Via Iozzino hanno contattato l'ex consigliere comunale Pagnetti che a sua volta ha coinvolto il consigliere Tinti del Partito Democratico che nel giro di qualche giorno ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale per chiedere chiarimenti sull'iter autorizzativo e siti alternativi. Nella mappa delle localizzazioni allegata al regolamento comunale approvato il 20 marzo del 2024 non è contemplata nessuna ipotesi di installazione in quell'area afferma Dimitri Tinti. Nei giorni scorsi numerosi abitanti hanno anche contattato la nostra redazione per mettere in evidenza questo episodio e per chiedere delle delucidazioni dall'amministrazione comunale. Vorrei capire essendoci un piano antenne che è stato firmato a marzo del 2024 e questo posto non c'era nel piano antenne vorrei capire prima di tutto a che titolo hanno dato il permesso qua che oltretutto è una zona fortemente abitata con diversi palazzi e quindi cosa vogliono avvelenarci tutti? Io spero di no e oltretutto vorrei capire chi ha firmato l'autorizzazione perché c'è una prassi e loro non l'hanno seguita visto che il piano antenne non prevede un'antenna metauriglia. Le preoccupazioni sono un po' generali perché abbiamo paura in primis per il nostro futuro e poi un po' di preoccupazione un po' anche per queste cose che fondamentalmente forse non conosciamo per la salute anche per il futuro dei nostri ragazzi. Inoltre alcuni abitanti ci hanno fatto notare che circa un chilometro a nord è già presente un impianto di un altro gestore mentre a sud, a poco più di un chilometro, è presente un accorpamento di vari gestori. Siamo preoccupati anche in tal senso come hanno ripetuto i miei vicini, la comunità siamo preoccupati per la salute perché non sappiamo se queste antenne saranno nocive oppure no e quindi vorremmo chiarimenti dalla nuova amministrazione speriamo che ci ricevano presto non abbiamo già fatto domande perché il sindaco ci riceva. Questa è una zona in particolare di Metauriglia perché è una delle poche che è abitata, come vedi, da cittadini non estivi che sono qua tutto l'anno abbiamo tanti bambini per la via e siamo tutti un po' preoccupati per questa cosa qua soprattutto perché ci sono tanti siti alternativi e trovarsi in antena a poche decine di metri da casa ci ha colto di sorpresa e un po' ci ha anche spaventato costruire una struttura così alta, così impattante anche esteticamente insomma per noi che stiamo qui da anni e ci siamo affezionati è stata una brutta sorpresa adesso speriamo che l'amministrazione comunale ci accolga e insieme si trovi una soluzione perché poi in realtà le alternative ce ne sono tante La fuga dei medici dalle strutture ospedaliere dell'Ast 1 è un'emergenza che mette a rischio l'erogazione delle prestazioni sanitarie a dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Renato Claudio Minardi che ha presentato un'interrogazione a firma anche del gruppo PD per verificare se le paventate dimissioni sono veritiere e per sollecitare la Giunta a prendere provvedimenti immediati la situazione drammatica, ha dichiarato Minardi è frutto della fallimentare politica sanitaria della Giunta a Quaroli e in particolare della sua riorganizzazione del sistema sanitario che dopo aver cancellato l'azienda ospedaliera Marche Nord l'Azur Marche e istituito 5 nuove aziende ancora oggi non riesce a decollare per la mancata approvazione degli atti aziendali le cui linee guida sono state deliberate addirittura 20 mesi dopo la nascita delle AST l'impressione, ha aggiunto Minardi è che la situazione sia completamente fuori controllo Torniamo a Metauriglia dove si è allungato di molto l'elenco delle opere compensative all'Adriatic Link redatto dall'amministrazione comunale dopo l'assemblea con i residenti probabilmente non tutto verrà finanziato con i fondi di Terna ma quello che rimarrà fuori ha detto il sindaco Ser Filippi verrà realizzato con le risorse del bilancio comunale sentiamo i dettagli nell'intervista al vice sindaco Loretta Banocchi Dunque anche gli abitanti di Metauriglia ieri sera è stata presentata la lista degli interventi che l'amministrazione comunale aveva redatto per proporli poi a Terna sono le opere compensative all'Adriatic Link Assessore Manocchi quindi quel elenco che lei ha presentato è stato integrato notevolmente Sì, direi che più che integrato è stato assolutamente quasi ristilato e abbiamo quindi la messa in sicurezza della strada statale adriatica a Metauriglia con la realizzazione di due rotatorie i cittadini hanno chiesto la rotatoria ulteriore che era prevista come da piano regolatore che venga realizzata a Tombaccia nell'intersezione che va dalla strada provinciale quindi via della Tombaccia con l'intersezione a strada della Cerasa località Metauriglia con la sistemazione sempre nell'area dei fossi la realizzazione di una pista ciclopedonale barra marciapiede questa amministrazione ha molto a cuore le piste ciclopedonali quindi laddove ci sono la possibilità di intervenire in questo senso noi lo facciamo di buon grado poi abbiamo la predisposizione dell'allaccio della fungiatura nelle intersezioni di passaggio dei cavi in località Metauriglia questo sarà a carico di ASET e vi compresa la illuminazione la messa in sicurezza della strada statale 16 tratto Metauriglia strada Ponte Alto incrucio della Cupa via della Tomba strada camminata strada di mezzo realizzazione di una pista ciclopedonale e di collegamento con la strada statale e il rifacimento della rete foniaria delle acque piovane a Metauriglia anche ieri sera è emerso la necessità di cambiare la pendenza del sottopasso a Metauriglia anche per l'accesso per i disabili ad esempio la bretella di collegamento quartiere di ambaccia ciclopedonale interna alla frazione e poi abbiamo una serie di richieste relative a autovelox o tutor segnaletica quindi servizi di isole ecologiche parcheggi l'assistimazione di fossi, giardini e la piazza in località Metauriglia l'assistimazione dell'immobile Ecomuseo quindi la lista si è indubbiamente molto arricchita ma nasce dalla concertazione dal confronto con i cittadini pertanto io ho detto e ribadisco che queste opere verranno realizzate nei prossimi anni perché Terna anticiperà il 75% dei 12 milioni quindi comunque un'anticipazione da parte del Comune di Fano importante è chiaro che tutte le opere che abbiamo elencato superano i 12 milioni ma non vogliamo precluderci l'opportunità di questo finanziamento e ci impegniamo come amministrazione comunale a finanziare tutte le opere inserite all'interno di questo protocollo quindi una parte saranno finanziati con i fondi di Terna una parte se ove non basteranno da parte dell'amministrazione comunale un'attenzione particolare che riserviamo a delle periferie della nostra città molto spesso trascurate sono investimenti importanti che da qui ai prossimi anni vedranno finalmente il compimento e l'amministrazione comunale fa sapere che nei prossimi giorni ci aggiornerà su questa notizia domenica 8 settembre alle 11.30 Fano TV trasmetterà in diretta la solenne celebrazione eucaristica della Natività di Maria da Loreto con l'accensione della Lampada della Pace la celebrazione sarà presieduta dal Monsignor Fabio Dalcin in delegato pontificio mentre sarà la dottoressa Carla Garlatti ad accendere la Lampada della Pace per il mondo che sarà posta nella Santa Casa al termine 5 bambini rappresentanti ciascun continente riceveranno la fiamma dalla lampada come simbolo di pace e speranza nell'attesa del Giubileo 2025 che sarà portata in tutte le regioni italiane e in un santuario mariano scelto per ogni continente i bambini offriranno all'altare il velo della Madonna con l'iscrizione del nome di oltre 10.000 coetanei provenienti da ogni parte del mondo la celebrazione si concluderà all'esterno della Basilica con la benedizione dei veivoli dell'aeronautica militare che omaggeranno la celeste patrona affidamenti e sponsorizzazioni dubbie a Pesaro oggi alcuni esponenti del centro-destra intervenuti in conferenza stampa hanno chiesto trasparenza e invitato l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci ad offrire chiarimenti sulla vicenda sentiamo oggi abbiamo voluto fare il punto su quello che è il tema degli affidamenti a cui si aggiunge il macro tema delle sponsorizzazioni perché dallo schema che abbiamo visto assodato dal lavoro che stiamo facendo di accesso agli atti dal lavoro delle commissioni dal lavoro del reperimento delle informazioni oltre ai affidamenti si aggiunge tutto un mondo di sponsorizzazioni che vanno ad aggiungere una cifra importante alle già 600 mila euro affidate in modo decisamente poco lucido poco trasparente quello che chiediamo all'amministrazione è di rispondere alle nostre domande e soprattutto alle domande dei tanti cittadini perché c'è poca chiarezza e le affermazioni che abbiamo sentito da parte del sindaco Ricci e del sindaco Biancani fanno semplicemente ancora più confusione e portano ancora meno chiarezza perché da un lato Ricci non può demandare tutto ai dirigenti dicendo che non sapeva perché il metodo del percorso invece partiva proprio da una volontà politica chiara, precisa che partiva dal sindaco chiaramente e chi operava per conto del sindaco aveva un affidamento diretto un incarico diretto da parte sua quindi non è possibile che chi agiva in suo nome non sapesse e non rendicontasse anche al sindaco così come è impossibile che non sapesse di cosa si tratta perché la maggior parte di questi affidamenti avvenivano tramite delle delibere delibere di giunta che quindi venivano in un luogo in cui il sindaco presiedeva e in cui c'erano gli assessori la stessa cosa vale anche per il sindaco Biancani che in questo momento continua a fare delle dichiarazioni che aumentano la confusione quando dice ho fatto di tutto per bloccare il sistema di cosa si tratta? di che sistema parla? bisogna fare chiarezza chiediamo all'amministrazione di rispondere e questo tema delle sponsorizzazioni va ad aggiungere un'ulteriore confusione un'ulteriore spaccato drammatico su una di quelle che sono le situazioni più gravi di questo comune negli ultimi anni quali saranno le prossime mosse del centrodestra? noi continueremo in modo molto serio e rigoroso a fare il nostro compito che è un compito di innanzitutto reperire informazioni e fare domande a queste domande è l'amministrazione che deve rispondere perché è l'amministrazione che sa e che conosce i fatti lo stiamo facendo in tanti modi con gli accessi agli atti anche se Bianchiani minaccia di denunciarci se continuiamo con gli accessi agli atti noi continueremo con gli accessi agli atti perché il nostro diritto è un nostro dovere per informare per avere la chiarezza necessaria per continuare il nostro lavoro è un lavoro di chiarezza a noi non interessa trovare lo scandalo a noi interessa trovare trasparenza chiarezza e informazioni per i cittadini perché non può succedere quello che è successo bisogna chiarire nel migliore dei modi anche e soprattutto perché innanzitutto serve trasparenza e chiarezza in come vengono spesi i soldi pubblici e poi lo dobbiamo anche alle tante associazioni alle tante persone che fanno tutto nel migliore dei modi e che rendi conto anche il centesimo bisogna fare chiarezza e su quest'ultimo argomento il sindaco Andrea Biancani è intervenuto chiarendo che il comune sta fornendo tutto il materiale previsto dalle richieste di accesso agli atti il personale della macchina comunale dice Biancani si impegna per garantire la doverosa trasparenza pur nella consapevolezza che questo incide sul lavoro quotidiano e sul rapido raggiungimento dei nostri obiettivi prosegue Biancani sin dal primo momento garantito la massima trasparenza del comune è necessario conclude il primo cittadino pesarese ristabilire un rapporto sereno di collaborazione soprattutto tra maggioranza e opposizione cambiamo argomento per parlare della mostra del Perugino a Fano per l'ex assessore alla cultura cora fattori all'attuale giunta è mancata la capacità di lungimiranza sentiamo il perché Assessore con delega alla cultura durante la giunta serie ha seguito con il sindaco le operazioni necessarie al restauro della pala del Perugino e gli eventi collaterali oggi è intervenuta con una nota in risposta alle dichiarazioni rilasciate al Carlino dall'attuale sindaco Serfilippi e dall'assessore Tarsi in merito alla mostra che cosa non la trova d'accordo? Mi dispiace aver letto queste dichiarazioni non sono solita fare polemiche anzi auguro il miglior lavoro e operatività a questa giunta perché se lavora bene è un beneficio per tutti coloro che abitano la città me compresa e dispiace però vedere che è mancata la capacità di lungimiranza e si è fatto il 2 più 2 sul semplice costo dei biglietti anzitutto ricordo che la vendita dei biglietti è andato meglio di quanto preventivato tanto che la cosa ci ha permesso di prolungare l'apertura e ci si è completamente dimenticati del grande valore storico culturale artistico ed economico che questa mostra ha comportato e ha portato perché? perché il valore economico di una mostra non si basa soltanto sui biglietti ma anche sul valore del grande restauro che ammonta 100.000 euro che l'Opificio delle Pietre Dure ci ha regalato proprio perché c'è stato un lavoro politico iniziato da il sindaco Massimo Seri quando aveva la delega alla cultura è stato un grande successo di cui personalmente lo ringrazio e lo dovrebbero ringraziare tutti anche coloro che governano adesso anche perché questo grande risultato ha portato a una mostra importante che è stata presente in Capitale della Cultura di Pesaro e il 7 marzo c'è stato un evento importantissimo con i maggiori esperti di settore un evento molto partecipato non solo dai cittadini ma anche da detti ai lavori che arrivavano da tutta Italia e che si sono complimentati e congratulati quindi un evento di grande richiamo e di altissimo livello culturale cosa che porta sempre bene alla città un evento e una mostra che poi hanno portato a un dialogo ancora maggiore con l'Opificio delle Pietre Dure tanto che se viene presa in considerazione seriamente la possibilità tangibile di un secondo restauro quello dell'annunciazione è merito di un percorso le cose non arrivano a caso e quando si amministra una città bisogna sempre pensare nel medio e nel lungo periodo perché è così che si fa crescere una comunità ed un territorio e infine vengo alla critica dei 100.000 euro che erano tanti e rotti tra gli 80 e i 100.000 euro avevamo preventivato per riposizionare l'opera in loco e anzitutto noi stavamo aspettando le direttive precise della sovrintendenza che ringraziamo per la grandissima collaborazione che ci ha sempre dimostrato un restauro di questo tipo un'opera del valore inestimabile come quella del Perugino merita di essere riposizionata al meglio e i soldi si possono prendere in conto capitale lo stesso capitolo di spesa ricordiamo da cui si attinge per la sistemazione di via La Lighieri 450.000 euro per ricavare 14 parcheggi ora a fronte di questo 100.000 euro per riposizionare il Perugino su esplicita richiesta della sovrintendenza penso che ne valgano la pena concludo ricordando che abbiamo fatto tantissimi laboratori per bambini promozione e lavoro con le imprese abbiamo cercato di valorizzare al meglio questo grande tesoro e spero che la città lo riconosca e esiga che si continui in questa direzione il teatro della fortuna di Fano domenica 8 settembre apre le porte ai cittadini per scoprire i mosaici e il sipario storico come vedete in questo cartello sono diversi gli orari di ingresso il costo del biglietto è di 3 euro gratuito invece per i minori di 10 anni a Pesaro ultimi preparativi per la fiera di San Nicola che si svolgerà dal 10 al 12 settembre tre giorni di colori sapori e spettacoli con 500 espositori non mancano le novità sentiamo le novità di quest'anno è il fatto che comunque Pesaro capitale della cultura si è voluto dare appunto un valore aggiunto anche prodotti tipici locali quindi all'entrata della fiera troverete le proloco della provincia che hanno partecipato e quindi ci sarà la possibilità di mangiare e comunque assaggiare i prodotti tipici del territorio questo è stato un progetto che appunto la cultura ha voluto inserire all'interno della fiera di San Nicola però comunque non manca sicuramente la tradizione della fiera di San Nicola che ricordo a tutti ha una storicità la fiera di San Nicola e riguarda appunto la vendita dei prodotti dell'agricoltura quindi l'aglio la cipolla che negli anni passati veniva appunto portata dall'entroterra al centro della città di Pesaro quanti espositori saranno presenti e quali saranno le zone coinvolte? sicuramente ci saranno più di 500 espositori ricordo a tutti che la fiera di San Nicola è una delle fiere dell'Italia centrale una delle più grandi e quindi faccio i miei complimenti comunque per tutta l'organizzazione a Pesaro Parcheggi ma anche tutti gli attori che girano intorno alla fiera di San Nicola dal punto delle varie associazioni la polizia municipale la protezione civile ci sono tanti enti che lavorano insomma per far sì che ogni anno abbiamo una fiera di San Nicola importante quest'anno c'è stata anche molta attenzione per la disabilità quindi ci saranno dei parcheggi dedicati alla disabilità e poi anche le marche multiservizi che si rende disponibile quindi c'è un lavoro di sinergia che inizia già da mesi quest'anno abbiamo anche dato più possibilità agli ambulanti di organizzarsi meglio quindi lo ZTL inizierà prima appunto per far sì che nel momento in cui apre la fiera tutti gli ambulanti siano posizionati per iniziare la loro vendita dal 9 al 14 settembre sarà il comune di Tavuglia il protagonista di 50x50 capitali al quadrato il progetto di Pesaro 2024 che vede 50 comuni della provincia a turno capitale per una settimana il programma dal titolo Tavuglia vale oro offre una ricca proposta tra arte, storia, musica, sport fotografia e laboratori per i più piccoli il filo conduttore la parola vale ha spiegato il sindaco Federici con un evidente richiamo a Valentino Rossi che ha fatto conoscere Tavuglia al mondo intero facendoci diventare destinazione di culto la settimana però non parlerà di Valentino ma sarà l'occasione per raccontare il paesaggio con una ricca rete di sentieri le industrie le manifestazioni di rilievo internazionale la musica e il sociale il programma completo lo troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it andiamo alla Codma di Rosciano a Fano dove prosegue la mostra canina oltre 2000 animali iscritti e giudici provenienti da tutto il mondo vediamo siamo alla terza edizione l'evento è nato da un'idea del gruppo cinofilo di Pesaro e del gruppo cinofilo di Ancona e infatti l'evento si chiama Marche Winner perché diciamo comprende tutti e due anzi per la verità ne comprende anche altri comprende il gruppo cinofilo di Fabriano e anche quello di Iesi oltre a quello di Ancona e di Pesaro la manifestazione avrà durata fino a domenica 8 settembre come si svolgerà il programma? allora abbiamo rimasto due giorni oltre ad oggi domani sabato e domenica dove ci sono due internazionali due gare internazionali quindi valevoli per il campionato internazionale sono le qualificazioni per partecipare al campionato internazionale e ci sono come abbiamo detto circa 2000 cani quindi sono tanti ci saranno delle selezioni in base allo standard le razze canine sono tante perché quelle riconosciute sono circa 370 dalla federazione cinofila internazionale quelle italiane sono 18 e le 370 razze diciamo che appartengono a tutti i paesi del mondo ogni razza però fa parte di uno stato e lo stato deve mantenere quello standard di razza qui andiamo a vedere se questi cani sono o no nello standard per quanto riguarda la competizione ci sono giudici provenienti da tutto il mondo da dove provengono? sì noi abbiamo in totale 19 giudici in questi 4 giorni vengono la maggior parte sono diciamo italiani però ne abbiamo alcuni ad esempio me li sono segnati dall'Irlanda dalla Spagna dalla Croazia dalla Finlandia e dal Montenegro e qual è il messaggio che vogliamo lanciare ai tanti spettatori? il messaggio è quello di voler bene ai cani e l'obiettivo infatti di queste manifestazioni sono proprio quello di dimostrare quanto amore quanta dedizione abbiamo per i nostri amici a quattro zambo l'area sportiva naturalistica del centro socioculturale Caprillino di Pesaro farà da cornice sabato 7 settembre dalle ore 15 al torneo di calcio 8 Memorial Romolo Spezzi e Ivan Gennarelli giunto alla decima edizione riservato alle compagini composte da appartenenti alla Polizia di Stato della provincia di Pesaro e Urbino era l'8 settembre 2012 quando nacque il torneo intitolato ai due agenti prematuramente scomparsi per commemorarne il ricordo l'iniziativa è organizzata insieme all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Pesaro e dei sindacati SILP SAP SILP CGL saranno quattro le squadre partecipanti tre della questura di Pesaro e una del commissariato di Fano al via la seconda edizione di Vallefoglia Challenge l'evento dedicato allo sport che si svolgerà nelle due giornate del 7 e 8 settembre sentiamo di più nel prossimo servizio Tutto pronto per la seconda edizione di Vallefoglia Challenge l'evento che si svolgerà il 7 e 8 settembre presso il Pala Dionigi e le aree antistanti due giornate dedicate allo sport con tanti appuntamenti da non perdere come quello di sabato pomeriggio alle 17.30 con Gaia Giovannini oro olimpico nella Palavolo a Parigi 2024 Ci sarà la premiazione di Gaia Giovannini sabato alle 17 che ha portato Vallefoglia negli scenari internazionali grazie alle sessioni sportive in questo caso anche Megabox che ovviamente ha contribuito a battere gli americani che insomma di questi tempi è un onore per l'Italia e lì fu citata anche Vallefoglia Un evento importante per un comune che negli anni ha dimostrato grande attenzione verso lo sport con l'ampliamento del Pala Dionigi senza dimenticare il Palavitri e il Palafoglia Sesto On The Day abbiamo inaugurato oramai tante attrezzature sportive nuove ho citato due palestre la Palavitri a Montecchio e la Palafoglia Sesto On The Day a Bottega due strutture importanti stiamo facendo il più grosso investimento di questi dieci anni nel Palavitri per consentire a Megabox oggi portando a 10 metri e a 1500 posti per fare i campionati italiani i campionati europei di pallavolo e di pallacanestro quindi investiamo sul futuro investiamo sui giovani grazie alle società sportive che sono tantissime nel programma dell'iniziativa tornei presentazioni musica e spettacoli Vallefoglia Challenge vuole essere una vera e propria vetrina per lo sport del territorio dove bambini e adulti potranno mettersi in gioco in tantissime discipline sportive pallavolo basket ciclismo ma anche sport acquatici ginnastica e tornei di calcio il tutto dalle ore 10 alle ore 22 allo sport poi verrà unito anche il tema del sociale e dell'ambiente come nel caso del plugging una passeggiata salutare raccogliendo rifiuti per aiutare il territorio e il pianeta l'evento giunto alla seconda edizione è stato realizzato grazie alla collaborazione con numerose società sportive del territorio dalle 10 di mattina alle 10 di sera del sabato e domenica ci sarà spazio in un'area ampia quella dove si svolge il mercato a Montecchio insomma a fianco agli impianti sportivi più importanti del territorio ci sarà spazio per tante discipline sportive quindi invitiamo i ragazzi le famiglie a partecipare e a visitare questa due giorni importante di sport per il territorio subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire due speciali il primo sul calcio femminile con la presentazione delle quattro squadre dell'unione sportiva Fortuna Fano mentre il secondo dedicato all'esposizione canina internazionale Marche Winner 2024 che si sta svolgendo alla Codma di Rosciano termina qui il telegiornale grazie per averci seguito e buona serata Grazie a tutti